Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e sono già pronto col mio bisturi perché oggi abbiamo tanti pacchetti da aprire assieme e anche qualche acquisto arretrato da mostrarvi. Ma prima di cominciare vi ricordo che utilizzando il codice 7Potter su Pampling avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri da qui all'eternità. E naturalmente questa maglietta l'ho acquistata su Pampling a tema Harry Potter ma trovate qualsiasi altro fandom. Ragazzi io vi lascio naturalmente tutti i link sotto in infobox. Detto questo direi di cominciare con la prima cosa che vi avrà sicuramente già colpito, questa qui, il secondo fermalibro di Mina Lima e Noble Collection in collaborazione. Io vi avevo già mostrato questo qui con la ragazza che vomita le pastiglie nel settio e di questo trovate il video specifico realizzato sul canale. E finalmente dopo qualche mese ho acquistato anche questo qui dell'uomo con le bolle che sinceramente ho acquistato diversi mesi fa, forse addirittura prima dell'estate, ma che mi ero assolutamente dimenticato di recensirvi. Perché nella foga di controllare che fosse integro l'ho aperto, l'ho messo sulla libreria assieme all'altro e poi mi è passato completamente di testa. Quindi ragazzi eccolo qui. Anche questo è molto molto bello, questi colori così forti, acidi, sono caratteristici di Mina Lima. E naturalmente secondo me vale assolutamente la spesa. Questo l'ho pagato credo attorno ai 65€, costano parecchio, però sono davvero molto ben realizzati. Vengono imballati alla perfezione, poi Noble Collection è una garanzia, quindi direi che li vale assolutamente tutti. La base in velluto è Logata, Warner Bros. e Wizarding World, quindi assolutamente tutto ufficiale. E finalmente si sono ricongiunte le due parti. Io avrei preferito acquistare magari un'unica confezione con entrambi i fermalibri a 100€ anziché acquistarne due a 60€ e passa l'uno. Però sono scelte di Noble Collection e noi non possiamo fare altro che accettarle. Io li sto utilizzando per tenere in mezzo tutte le versioni illustrate di Harry Potter. E devo dire che fanno la gran bella porca figura che meritano. Detto questo, ragazzi, adesso passiamo però ai pacchetti perché ci sono acquisti e tante cose arretrate da aprire. Tipo questo pacchetto qui che arriva da AliExpress. È un acquisto che ho fatto due mesi fa e finalmente i cinesi si sono degnati di mandarmelo. E dovrebbe essere una miniatura di un'opera di Jeff Koons. A me piace tantissimo Jeff Koons, mi piace il suo stile, mi piacciono i suoi cani palloncino. E appunto questa dovrebbe essere una miniatura del suo cane fatto con i palloncini. Spero sia integro dopo due mesi di viaggio, ma l'ho pagato meno di 2€. Credo 1,60€, 1,65€ giù di lì. Ok, il polistirolo è distrutto, però ecco qui il nostro cagnolino. Sembra totalmente integro, quindi vediamo. Assolutamente sopra le mie aspettative si può poggiare in una mensola, in una libreria, dovunque. Ha la base piatta sotto, è realizzato in una sorta di gesso, credo, colorato d'oro. Era disponibile in tantissime colorazioni diverse. C'era anche rosa, bianco, nero, verde, blu, di tutti i colori possibili e immaginabili. E questa qui era la versione più piccola, che però, a me, devo dire, va già più che bene. Ci sono delle versioni molto più grandi e si arriva fino a 60-70€. Qualora foste interessati, ragazzi, li trovate su Aliexpress, basta scrivere Dog Balloon e ve ne escono davvero tantissimi. Ma adesso andiamo avanti e parliamo di Zero Calcare, che è arrivato da poco in libreria con il suo nuovo libro, Zero Calcare, la scuola di pizze in faccia, del professor Calcare. Io volevo assolutamente prenderlo subito in prima edizione, perché Bao ha annunciato che questa edizione qui avrà sei pagine in più, che successivamente verranno sottratte dalle nuove edizioni. Quindi io non so assolutamente di cosa parli questo libro. Zero Calcare è il mio fumettista preferito in assoluto, mi piacciono tantissimo i suoi volumi. Il mio preferito, credo sia al momento un polpo alla gola e anche Coban Calling. Ma, ragazzi, trovate tutti i libri di Zero Calcare nella mia vetrina Amazon. Vi ricordo che, in collaborazione con Amazon, ho realizzato una sorta di negozio nerd, dove all'interno trovate Harry Potter, Trono di Spade, libri, fumetti, tutti scelti da me. Qualsiasi acquisto realizzato all'interno della mia vetrina, mi verrà corrisposta una piccolissima percentuale da Amazon che mi servirà appunto per mandare avanti il canale e tutta la baracca. Detto questo, andiamo avanti perché ci sono tantissime cose da aprire. Il prossimo pacco me lo manda Salani, che ringrazio tantissimo per la gentilezza. E si tratta di un libro che ero curiosissimo di leggere perché di recente ho visto su Sky la serie dedicata a Chernobyl, o Chernobyl, credo si dica così. E, appunto, Salani ha appena rilasciato questo libro, Chernobyl, l'Una 2340, che è appunto l'ora del disastro, se non ricordo male. E' scritto da Andrew Letterbarrow e si intitola La storia vera del disastro nucleare che ha sconvolto il mondo. Questo è una sorta di racconto di tutto quello che è successo quella notte, ma è intervallato dai racconti di viaggio dell'autore, che si è recato proprio nella zona di esclusione di Chernobyl. E quindi sono curiosissimo di andare a leggere il suo reportage perché a me la serie ha appassionato tantissimo e poi mia mamma me ne parla sempre perché è avvenuto nell'86, che è il mio anno di nascita, mia mamma era incinta e mi racconta sempre della paura che arrivasse anche qui da noi questa nube tossica. Quindi sono sempre stato incuriosito dalla catastrofe di Chernobyl e mi piacerebbe proprio approfondirla e questo libro mi è sembrato indicato per questo scopo. Quindi ve lo consiglio assolutamente. Vi lascio anche di questo il link nella vetrina Amazon, lo trovate nella sezione Libri Consigliati e ragazzi io assolutamente vi consiglio anche di guardare la serie perché è qualcosa di spettacolare. I prossimi due pacchi invece mi arrivano da Universal Picture Home Entertainment che ringrazio sempre tantissimo perché mi sopportano e io non sono facile da sopportare. Alessandra, l'ufficio stampa, ne sa qualcosa. E adesso vediamo cosa vi è stato inviato questo mese. Abbiamo... wow! Questo qui dovevo ancora vederlo. Si tratta del Blu-ray 3D più Blu-ray di Spider-Man Far From Home che è ambientato in larga parte in Italia. Infatti sulla copertina troviamo Venezia. Questa è un'edizione speciale perché all'interno contiene il diario di viaggio di Peter nell'esclusivo booklet di 48 pagine. Quindi andiamo ad aprirlo e tiriamolo fuori. Sfidiamo la slipcase ed ecco che all'interno c'è la classica Amarei Blu che all'interno contiene sia la versione 3D che la versione Blu-ray entrambe serigrafate, molto molto belle. E poi ecco il diario di viaggio di Peter Parker. È un libricino di 45 pagine e finalmente sono molto molto contento di questo. È tutto in italiano. Cosa, ragazzi, che non darei mai per scontata visto che spesso e volentieri gli allegati sono sempre in lingua inglese mentre in questo caso tutto tradotto in italiano. È davvero molto molto bello, ci sono le foto, tutte le varie tappe si passa da Praga, da Londra, da Venezia. È davvero molto molto interessante. Io all'epoca mi sono perso la visione di questo film perché tra una cosa e l'altra non sono riuscito ad andare al cinema e finalmente me lo potrò godere in piena tranquillità in casa mia. Anche perché ho deciso che non andrò mai più al cinema dopo aver visto il film di Downton Abbey ho litigato praticamente con mezza sala di maleducati quindi direi che da oggi in poi mi godrò le home video a casa mia così da non litigare con nessuno e da non rovinarmi ogni singolo film che vado a vedere al cinema. Va, questo è un altro discorso e io ringrazio tantissimo l'Università Picture Home Entertainment per avermi inviato questo Blu-ray e ragazzi, naturalmente anche questo lo trovate sotto nella mia vetrina Amazon. Fatemi sapere se voi l'avete già visto, presumo di sì moltissimi di voi sono fan Marvel fatemi sapere se ne vale la pena e cosa ne pensate. Secondo pacco di Universal, andiamo ad aprirlo è questa volta 3 Blu-ray e si tratta dei nuovissimi Blu-ray della collana Graphic Art Collection si tratta di grandi cult del cinema che sono stati illustrati con delle copertine illustrate in collaborazione da Andrea Mutti e Angelo Bussacchini e si tratta di edizioni numerate limitate a 1500 pezzi luna in questo caso mi è stato inviato il Blu-ray di Christine la macchina infernale poi mi è stato inviato il film World War Z di Brad Pitt e il terzo invece è Terminator Genesys andiamo ad aprirli e vediamo cosa contengono all'interno e come sono state realizzate queste Graphic Art Collection cominciamo con Terminator e ragazzi, ecco qui l'illustrazione esterna che è davvero molto molto bella e nella parte interna troviamo la stessa illustrazione però la preparazione, quella realizzata a matita ed è davvero molto molto interessante e poi qui nell'angolo troviamo il bollino col numero che identifica la copia in questo caso la mia è la numero 42 su 1500 e poi una volta chiusa la copertina diventa una slipcase che va sfilata e all'interno troviamo la classica Blu-ray in Amarei così come anche per Christine l'auto infernale ecco qui l'illustrazione esterna sono davvero molto molto belle e all'interno ecco qui quella a matita in questo caso è la numero 1133 su 1500 e poi ecco qui la terza ecco World War Z da questa parte la solita illustrazione molto molto bella e molto pulita mi piace che non abbiano scritto nulla sopra e poi all'interno la versione a matita e anche in questo caso poi basta sfilare da sotto l'amarei ed ecco che troviamo la classica copertina del disco mi piacciono davvero tantissimo vi dirò la verità io non ho visto nessuno di questi film e credo che sarà appunto la volta buona per andare a recuperare questi film cut quindi ragazzi anche di questi titoli ma anche di altri visto che la collana ne comprende anche altri li troverete sotto in infobox linkate da Amazon dove li troverete scontati vi ricordo solo 1500 pezzi per ogni copia e adesso per concludere ecco che apriamo due pacchetti che mi arrivano da pampling che tengo da parte da tre vite e adesso finalmente li possiamo aprire si tratta di una maglietta non mi ricordo neanche più quale maglietta sia però così ad occhio e croce direi che si tratti di Stranger Things non avevo neanche una di Stranger Things e questa qui mi era piaciuta particolarmente soprattutto perché è blu e poi troviamo Hawkins e le due rappresentazioni del sotto sopra e mi piace davvero tantissimo abbiamo il Mind Flayer e ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate questo Welcome to Hawkins mi è piaciuto mi sono piaciuti i colori e come questa vi dico la verità trovate tantissime altre magliette molto molto fighe su pampling a prezzi davvero irrisori perché come vi dicevo utilizzando il codice 7Potter avrete il 20% di sconto sui prezzi che già sono davvero molto molto bassi e la spedizione è spesso o gratuita o costa solo 1 euro, 2 euro dipende dai periodi quindi io vi straconsiglio le cose di pampling anche perché la qualità è molto molto buona io utilizzo queste magliette ormai da due anni e sono ancora in perfette condizioni nonostante vari lavaggi quindi ve le consiglio assolutamente mentre in quest'altra busta dovrebbero esserci ancora calzini se non sbaglio qualche altro paio di calzini io mi ci sto trovando benissimo e si tratta dei calzini di Harry Potter con il simbolo dei doni della morte e questo qui con delle semplici e classiche biciclette che credo di aver ordinato una volta tornato da Amsterdam perché ero andato in pista con le bici detto questo ragazzi non mi resta che chiedervi di seguirmi su Instagram Antonio.seria lasciare un mi piace, commentare condividere il video con i vostri amici e io vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità ciao 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 Grazie a tutti.